Se morite dal caldo Rinfrescatevi Devo parlare con te Con una sana risata Su canale 5 c'è un film per tutti Sono stato riciclato Ma proprio tutti Bobo, sette te Anche per quelli che c'erano Io ero Louis Jeffries Non ci sono più È la sua prima vita come essere umano O sono ritornati come lui Vuole rinascere maschio o femmina? È uno strano caso Io sono Louis Sì, e io sono Cleopatra Per il ciclo Voglia di tenerezza Uno strano caso Domani 20.30 Canale 5